Allora, come preannunciato e come discusso nelle sedute precedenti, il documento che abbiamo presentato oggi ha lo scopo di mettere a fuoco una serie di interventi di natura diciamo propedeutica a tutta la più generale attività di implementazione dell'accordo di associazione che riguarda sostanzialmente quelle che potrebbero essere le cosiddette attività di base, la definizione di un perimetro entro il quale puoi concentrare tutta l'attività di implementazione successiva. Questo è un aspetto importante perché noi adesso entreremo in un modo o nell'altro in una fase, perché questo è un anno comunque di anche elettorale quindi è un anno di celebrazione delle elezioni e comunque di transizione da una legislatura all'altra e quindi credo che sia importante mettere a fuoco delle linee operative che possono poi permettere anche all'amministrazione di andare avanti in questa attività e non perdere tempo rispetto a quella che saranno poi nei mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo e non arrivare al momento di entrata in vigore dell'accordo con una congestione di attività tutti insieme da fare. Soprattutto questo serve anche credo per creare quel coinvolgimento sia delle istituzioni sia degli uffici un po' anche della società civile attorno al tema dell'accordo con un occhio pratico alle questioni e non solo teorico perché poi se no si parla sempre di eventualità, possibilità, scenari ma poi entrando nel merito di queste attività sicuramente si riesce a declinare meglio anche i contorni di questo accordo. Accordo che, e approfitto per dare un aggiornamento in questo senso, accordo che rispetto al quale è in corso di completamento l'attività di predisposizione di un cosiddetto testo pilota che sarà il testo definitivo sulla base del quale poi verranno fatti tutte le traduzioni nelle lingue ufficiali ma che sarà già un testo condivisibile. Ho avuto rassicurazioni dalla Commissione che il testo pilota potrà essere pubblicato non appena disponibile. Quindi i tempi sono tecnici, dipendono dagli uffici della Commissione, però ci aspettiamo di ottenere questo testo fra la fine di marzo e la prima metà di aprile. Poi può essere prima, può essere dopo, sinceramente non riusciamo ad avere una data certa. La definizione di questo testo pilota aprirà la fase anche di consultazione all'interno degli organi della Commissione e di discussione secondo le procedure della Commissione in ambito di Consiglio europeo. Quindi già questa Presidenza dovrebbe avere in pancia la discussione dell'accordo per la sua approvazione all'atto Commissione. Quindi questi più o meno sono adesso i tempi ad oggi, tempi che cambiano onestamente di settimana in settimana, a volte si allungano, a volte si accorciano e non è evidentemente semplice avere date certe, ma questo anche perché anche la stessa Commissione va verso una fase elettorale e quindi anche per loro insomma c'è un imbuto dovuto a tutti gli accordi in sospeso e questo è particolarmente complesso quindi richiede particolarmente tempo in più. Quello che riguarda in modo particolare il documento io vorrei focalizzare l'attenzione intanto su un aspetto generale. Chiaramente il negoziato si è concluso a dicembre e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo concluso la parte di negoziazione dei contenuti dell'accordo. Ora nella fase diciamo nuova che sarà quella di gestione dell'accordo, quando l'accordo sarà in vigore, il negoziato non finisce, cioè si trasforma, passa da una negoziazione dei contenuti dell'accordo a una negoziazione dell'implementazione dell'accordo. Perché sebbene noi abbiamo convenuto una serie di regole e di elementi all'interno dell'accordo, deroghe, eccezioni e quant'altro, poi l'implementazione cioè come noi daremo applicazione a quelle regole e a quei contenuti sarà comunque oggetto di discussione perché ci saranno inevitabilmente delle sfumature, cose che non saranno fattibili a San Marino o che a San Marino per motivi costituzionali, per motivi istituzionali, per motivi di impostazione dovranno essere fatte in maniera diversa o in maniera leggermente diversa. Questo farà sì che i comitati misti, sia quello di associazione che quello tecnico, diventeranno delle camere di compensazione politica nelle quali noi con l'Unione Europea andremo a dire ok, trasporti, trasporti, abbiamo fatto tutto, il diritto fluviale non l'abbiamo implementato perché non abbiamo i fiumi, esempio banale, oppure abbiamo delle particolarità che riguardano aspetti ambientali che noi abbiamo gestito così. Questa flessibilità di implementazione che è la stessa che abbiamo sempre utilizzato anche con la convenzione monetaria diventerà una leva importante, quindi non finisce il negoziato ma inizia una nuova fase di negoziato che sarà quella di gestire la progressione dell'accordo, anche con riferimento ai nuovi atti, perché la Commissione magari cambia il quadro regolamentare di un settore e quindi proporrà nuovi atti normativi magari in sostituzione dei precedenti che noi dovremo analizzare, rivalutare e rimettere in discussione nell'eventualità di un'implementazione all'interno dell'accordo. Quindi questa è una fase molto importante che richiederà un adeguamento del nostro staff, dei nostri funzionari dedicate a questa attività. Io vedo, e l'ho già detto più volte, un appotenziamento della missione a Bruxelles che è fondamentale, già lo stiamo facendo, ma occorre assicurare un personale stabile in quella posizione perché peraltro noi avremo un diritto importante che è quello della partecipazione degli interlegislativi europei, cosa che oggi non facciamo. Quindi dovremo andare a vedere le discussioni, sentire i dibattiti relativamente alle varie norme e poter esprimere raccomandazioni che vadano a tutelare i nostri interessi nell'ambito della gestione dell'accordo. Quindi questa è un'attività ad esempio completamente nuova, che va costruita e va preparata. Quindi da una parte vedo questo, da una parte vedo ovviamente anche una riorganizzazione della pubblica amministrazione per la gestione dell'accordo, che vede sempre il Dipartimento Affari Esteri al centro, ma è evidente che non è più possibile gestire le fasi successive con una persona per Dipartimento o per Segreteria dedicata all'accordo che poi magari a volte non c'è, a volte è un altro. Insomma occorre strutturare dei terminali fissi all'interno della macchina amministrativa sanmarinese che siano dei punti di riferimento dedicati all'implementazione dell'accordo, cioè il settore trasporti, telecomunicazioni, energia, ambiente e via, lavoro. Occorrerà che ci siano degli specialisti che si occupino di questo, perché altrimenti perdiamo la gestione, cioè abbiamo una gestione disordinata. Nel proseguo del documento ci sono poi, c'è una parte che riguarda l'adeguamento istituzionale propedeutico alla gestione, che è ad esempio quella di definire già quali saranno le tecniche legislative che utilizzeremo per recepire la chi. Non potremo trasporre tutto riscrivendo tutte le norme come una fonte sanmarinese. Le direttive sicuramente sono da trasporre, ma i regolamenti tecnici ad esempio potrebbero avere un recepimento dinamico, cosa che facciamo già da tempo per altre discipline. Potremmo anche definire degli strumenti ad hoc per questo tipo di recepimento. Vero è che sarà fondamentale, quello che continuo a dire da tempo, andare a definire anche proprio un passaggio di verifica di conformità nell'iter istituzionale delle leggi, perché non possiamo permetterci d'ora in avanti di fare leggi che ci discostano dalla chi. Cioè diventa un problema poi dopo di ritornare di nuovo in aula per rimettere le cose a posto. Recepimento come dicevo, definizione della tecnica di recepimento, altro aspetto invece riguarda il tema della Corte di giustizia. La Corte di giustizia, come ho avuto modo di dire più volte, è un elemento di grandissima importanza di questo accordo. Prima di tutto perché è l'organo che vigila sull'accordo e quindi anche che tutela i nostri interessi nell'ambito dell'accordo. Però dobbiamo cominciare a gestire rispetto alla Corte di giustizia alcuni passaggi. Ad esempio le nostre regole di procedura per quanto riguarda i procedimenti innanzi al Tribunale andranno integrate da una parte per quello che riguarda il riconoscimento delle sentenze della Corte, dall'altra per prevedere anche la possibilità del nostro Tribunale di avvalersi della Corte quando ci sono soluzioni ad esempio di conflitto o da derimere situazioni interpretative rispetto alla chi comunitario e all'accordo. E questo sarà uno strumento importante. Immaginiamoci un appalto fatto a San Marino o un appalto all'estero dove un'azienda sanmarinese pensa di essere stata penalizzata rispetto ai contenuti dell'accordo. Ad esempio anche in un procedimento civile o amministrativo la Corte prima ancora di fare un ricorso alla Corte che è una procedura molto più complessa può esprimersi con un parere rispetto a quel procedimento. Questo sarà un passaggio importante. Cioè la non discriminazione che noi abbiamo ottenuto, cioè i concetti di non discriminazione, i concetti di equivalenza che abbiamo negoziati non sono solo sulla carta ma diventeranno e saranno garantiti dalla Corte di Giustizia. Quindi questo sarà un passaggio importante. Evidentemente non stiamo parlando delle modifiche costituzionali che sono state richieste ad esempio per la CEDU perché qui non aggiungiamo un grado di giudizio nella nostra gerarchia del procedimento innanzi al Tribunale ma dobbiamo comunque far valere la regolarità delle sentenze e comunque ammettere questo tipo di passaggio. Sul piano organizzativo della PIA abbiamo indicato alcuni elementi che possono andare avanti da soli anche in una fase di ordinare amministrazione. Occorre fare una scelta relativamente alla strutturazione delle autoriti. Occorre capire quali servizi la pubblica amministrazione vorrà continuare a mantenere in ausi e quindi tenerli come propria prerogativa. Quali metterli in un concetto di esternalizzazione e quindi aprirli a logiche più di mercato. Nel nostro caso abbiamo ottenuto tutte le possibilità, le combinazioni possibili quindi sta a noi decidere cosa scegliere. È una scelta tutta san marinese. Abbiamo la possibilità di erogare i servizi pubblici ancora come oggi, i servizi postali e le farmacie tutto quanto come se fosse l'oggi e va bene così ma se ci sono delle cose che organizzativamente vogliamo cambiare questo è il momento per cambiarle in base alle nostre esigenze. Ci sarà bisogno ovviamente di pensare da una parte a una riqualificazione del personale dell'amministrazione da dedicare a compiti specifici, a definire dei fabbisogni programmati ovviamente di personale anche in ragione delle nuove professionalità. Questi sono tutti aspetti che gli uffici dell'amministrazione possono portare avanti e cominciare a sviluppare proposte e cominciare a sviluppare dei piani per questo tipo di attività. Questo documento che mi augurerei che potesse essere poi approvato con un ordine del giorno diventa poi un input politico che il consiglio dà all'amministrazione ovviamente per il tramite del governo ma fondamentalmente all'amministrazione di attivarsi in questo senso. Ho parlato della questione delle organizzazioni ci sono poi alcune riforme che possiamo fare a prescindere dall'accordo anche perché sono necessarie. Abbiamo ad esempio la riforma della legge sulle residenze che ovviamente impatta sul tema della libera circolazione delle persone. Questa sarà una riforma importante che già può partire, già potrebbe essere un'attività per il secondo semestre della legislatura. le idee già ci sono e sicuramente su questo si può lavorare. Dovremmo garantire un sistema ibrido dove dentro le quote praticamente c'è un sistema libero, sopra le quote potranno mantenere i programmi di residenza ma ovviamente con regole che siano compatibili appunto con i principi europei. Dobbiamo pensare al regime concessorio. Noi non è che non dobbiamo liberalizzare completamente tutti i settori ma il regime concessorio deve cambiare. La concessione non può essere soggetta alla discrezionalità politica. Questo è un elemento importante per garantire la concorrenza sul mercato. Quindi dovremmo rivedere alcuni passaggi. Ad esempio sull'intestazione degli immobili invece abbiamo sul regime ad esempio dell'intestazione delle immobili abbiamo ottenuto l'applicazione del cosiddetto modello Malta per cui noi oggi abbiamo un sistema libero per tutti i residenti. La possibilità di intestazione di una cosiddetta casa vacanza per i non residenti possiamo mantenere questo modello però dobbiamo pensare se questo modello mantenerlo attraverso un regime concessorio amministrativo o con un regime concessorio ancora politico come il Consiglio dei dodici che comunque in tanti aspetti anche delle varie conformità che abbiamo anche a livello internazionale è una procedura effettivamente che abbiamo solo noi che non ha più nessuno Stato. Quindi questo è un aspetto che va valutato. Ci sono degli elementi che riguardano ovviamente anche la questione delle attività riservate. Adesso togliendo un attimo la parte bancaria e finanziaria. Ad esempio nel sistema bancario e finanziario l'autorizzazione a costituzione di nuove banche o entrata nel capitale delle banche non passa più per il congresso di Stato. L'abbiamo già da tempo sdoganata però oggi se uno vuole aprire un'orificeria deve avere il nulla osta del congresso di Stato. Io credo che siano passaggi questi che non servono più se abbiamo una buona struttura amministrativa che sulla base delle leggi e delle regole chiare è in grado di fare le valutazioni che comunque il governo oggi si trova a fare ma che non può fare neanche più semplicemente così a sentimento perché comunque vanno garantiti dei principi di parità di trattamento. Ma c'è questo già oggi quindi anche questo è un aspetto. Poi la parte che credo che sia assolutamente importante che in questi mesi deve andare avanti è la definizione di una strategia per quanto riguarda il sistema bancario finanziario. Abbiamo davanti 15 anni entro i quali dobbiamo attivare tutto la chi. Questi 15 anni possono essere 5, possono essere 6, possono essere 7. Dipende da noi quanto vogliamo anticipare, accelerare questo percorso, quanto sentiamo necessario far sì che il nostro sistema bancario si apra. Io ho parlato in diverse sedi sia con l'ABS sia all'interno dell'ANIS dove sono comunque presenti le banche, cioè le nostre banche vogliono entrare in Europa però noi dobbiamo aiutarle attraverso una strategia paese a accelerare il più possibile questo percorso e a farsi trovare pronte il prima possibile. Poi ci sono i settori dove non c'è industria, ci sono i settori che possono arrivare a San Marino senza creare concorrenza ma possono creare quell'indotto finanziario positivo anche per le stesse banche perché se a San Marino vengono 30 fondi comuni e poi i soldi li devono mettere in banca, se vengono 40 assicurazioni i soldi li devono mettere in banca. Quindi questi aspetti possono far sì che l'attivare dei comparti in anticipo rispetto ai 15 anni magari anche correndo può essere un vantaggio competitivo per il paese. Ovviamente c'è un tema che si innesta con la cartolarizzazione, con la gestione degli NPL. Abbiamo fatto tanto, è stato fatto tanto negli anni, sono state cambiate le governance, sono stati aumentati i requisiti professionali. Comunque nell'ambito della convenzione monetaria c'è stato un continuo allineamento normativo lacchi comunitario però adesso dobbiamo veramente metterci giù, definire dal giorno zero al giorno all'anno 5, all'anno 6 qual è la strada che intendiamo far prendere al nostro sistema bancario finanziario. Perché questo poi impatti sul lavoro, sulle professioni, sul fabbisogno di persone. In cinque anni un ragazzo fa in tempo laurearsi. La programmazione significa dire anche di chi abbiamo bisogno, dare anche un orientamento al personale che si potrebbe riconvertire o le persone che potrebbero accedere al sistema bancario finanziario, ma farlo sulla base di un programma chiaro, che sia leggibile. Questo è fondamentale. Quindi ovvio non è una cosa che si fa con un ordine del giorno, ma che richiede un lavoro che coinvolga tutti gli attori, banche, banca centrale, autorità di vigilanza, ovviamente governo, politica. Il tema poi della vigilanza è importante perché la nostra banca centrale, le nostre autorità di vigilanza si dovranno inserire nel sistema unico di vigilanza europeo e quindi anche per loro ci sarà la necessità di rivedere gli statuti, di rivedere le regole, l'organizzazione e quindi insomma credo che sia questa un'attività importantissima. Concludo per dire che quello che ho cercato di sintetizzare in questo documento veramente molto volutamente molto sintetico, ma che non è il solo documento, infatti vi trovate tre documenti nell'area riservata. Questo che io mi immaginerei potrebbe diventare l'allegato di un ordine del giorno, più i documenti che abbiamo discusso in Consiglio e in Commissione Affari Esteri che sono ovviamente più analitici. Questa sintesi secondo me è il minimo necessario per poter dare un input alla macchina amministrativa e comunque darci delle regole di ordine istituzionale macro, assolutamente alte, non analitiche, per poter cominciare a avviare delle attività e non far perdere tempo a tutta la macchina organizzativa. Io credo che le cose che troverete qui sono quelle che abbiamo già detto in aula più volte, ovviamente ci possono essere proposte anche di integrazione, di ampliamento e questo ovviamente rimane aperto. Però io credo che abbiamo cercato di sintetizzare al meglio i vari dibattiti che sono avvenuti in Consiglio e in Commissione Mista, cercando di arrivare a una sintesi che sia veramente l'essenza delle cose che sono importanti, che è importante mettere in campo fin da subito. Grazie Eccellenza.